Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale, io sono Luca, spero che abbiate passato un buon fine anno, un buon inizio d'anno e oggi ragazzoli andiamo a sciogliere lui il K.H. Bene ragazzoli, allora come vedete ho un riscaldatore all'interno di questa tanica da 5 litri, che è quella della fauna, qui a fianco abbiamo la nostra bella tanica, qui andremo a fare la soluzione di K.H. Ok? Della fauna marin. A differenza degli altri due prodotti di fauna marin, questo ragazzoli vi consiglio di riscaldare l'acqua, anzi ce lo consiglia proprio la casa produttrice, di riscaldare l'acqua per facilitare lo scioglimento del K.H. Quindi, io farò in questa maniera perché ragazzoli non ho un pentolino disponibile, ma se voi aveste un pentolino disponibile per riscaldare acqua d'osmusi, fatelo perché portate più o meno la temperatura intorno a 40-50 gradi e riuscite a sciogliere meglio il K.H. In questo caso io non ho un pentolino a disposizione, quindi sto usando il riscaldatore che come vedete è acceso, è impostato più o meno a 32 gradi. Ok? Adesso andremo a mettere l'acqua, i 3 litri che ci servono per fare la soluzione qui dentro e continueremo ad avere il riscaldatore all'interno in modo che ci aiuterà con lo scioglimento. Detto questo, come vi dicevo, andiamo a sciogliere il K.H. e di questo prodotto ragazzoli, a differenza anche degli altri due prodotti, non ci servono 2 kg ma ci servono bensì 500 grammi. Quindi adesso andiamo a pesare 500 grammi da fare una soluzione per 5 litri e con questi 2 kg abbiamo a disposizione altre 3 ricariche, cioè nel senso possiamo fare altri 15 litri di balling oltre ai 5 che facciamo. Il K.H. è quello che si consuma di più in basca, quindi questi 20 litri totali di soluzione con questi 2 kg, diciamo, tenderanno a consumarsi molto velocemente ma comunque sarà un consumo equilibrato con il calcio e il magnesio. Detto questo ragazzoli, vado a pesare mezzo chilo di soluzione, passiamo l'acqua lì dentro e vediamo tutto. Stacco un attimo il riscaldatore, così lo mettiamo all'interno della tanica. Spendo perché se resta senza acqua, devo bruciare. Adesso andiamo a riempire la tanica fino ai 3 litri. Ok, come vedete è acceso, aspettiamo 2 minuti, il tempo che il riscaldatore si spenga, sta a 32 gradi, ragazzi non ho riuscito a vedere ma sta a 32 gradi. Quindi aspettiamo un po' che si spenga e poi già ho pronto mezzo chilo del prodotto di K.H. per andare a scioglierlo. Ok, una volta sciolto dobbiamo portare la tanica, cioè il restante dell'acqua, a 5 litri. Lo vediamo fra poco. Già più o meno sta a temperatura, continua a stare accesa la luce come vedete, eccola lì. Però quello che andiamo a fare adesso, già staranno 10 minuti così, mentre andiamo a mescolare, aggiungiamo il prodotto di fauna. Non lo aggiungiamo tutto di colpo, lo aggiungiamo piano piano e in modo da farlo sciogliere, decentemente, perché comunque questo mezzo chiletto si deve sciogliere in questi litri d'acqua. Quindi iniziamo a mettere un po', iniziamo a mescolare. Dove ho messo un terzo, ragazzoni, ma qua dipende sempre da quanto è calda l'acqua, ok? Però iniziamo a sciogliere. Bene ragazzi, allora come vedete la soluzione è quasi limpida, però non so se vedete sul fondo, vediamo se lo riusciamo a vedere da sopra. Resta un po' di deposito, questo perché appunto si deve sciogliere un altro po'. Adesso, vedete, eccolo lì, è un leggero deposito, però continuando a mescolare e utilizzando anche il riscaldatore, credo che fra 10-15 minuti già lo possiamo trasferire nella boccia, nella sua boccia da 5 litri. Praticamente nulla di polvere sotto, quello che vedete lì in fondo sono bollicine che si creano mescolando il prodotto, però il prodotto è sciolto, ci abbiamo messo più o meno una ventina di minuti, va? Una ventina di minuti per sciogliere tutto il prodotto, che è già pronto ragazzi, per mettere in antanica e poi appunto metterlo in dosometrica, attaccarlo in dosometrica. Già tutto bello sciolto, adesso gli do un'ultima mescolata e lo metto sotto. E nada más gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.